ma poi chi lo parla più in latino? ma certo che ho comprato il de bello gallico suo figlio è molto bravo in latino pater istruitus, figlius pure piuttosto lei mi dà il suo numero di telefono che in latino iniziamo però suo figlio con la perifrastica la perifrastica tibi revocam da fides est cesar cicerone esorta cesare a ristabilire la fiducia nello stato la fides nelle istituzioni della res pubblica devastata dalle guerre civili nel far questo egli ricorre a una costruzione tipica del latino che si chiama perifrastica passiva una costruzione che esprime l'idea di necessità e di dovere è detta perifrastica perché è formata dall'unione di due elementi un gerundivo nel nostro caso revocam da e una voce del verbo sum est revocam da est alla lettera è da ristabilire bisogna ristabilire